Ancona, una delle città più provate d'Italia, porta anche nella ricostruzione la calda vita che oggi vedete per le sue vie infervorate dalla campagna elettorale, prova e insieme maturazione dello spirito democratico. Parla Alcide de Gasteri, il quale dice tra l'altro Ho combattuto per le mie idee, sperando nella evoluzione della libertà. Dopo vent'anni questa libertà abbiamo riavuto e bisogna difenderla. Bisogna scuotere il popolo nelle sue fibre più profonde. Questa è l'ora suprema. Bisogna vincere, costi quello che costa.